Nel XVII secolo il Cento Tessuo Fanteria 26 a divisione Yankee dell'esercito americano si addestrava e si accampava intorno alla Yale Bowl di New Haven. Un cane randagio si aggirava nell'accampamento. Il soldato J. Robert Conroy trovò il cucciolo dalla coda corta e lo chiamò Stubby. Il cane divenne rapidamente l'adorata mascotte del Centoglido Fanteria, nonostante il divieto ufficiale di ospitare animali domestici nell'accampamento. Quando la divisione partì per l'Europa per combattere nella Prima Guerra Mondiale, il soldato Conroy riuscì in qualche modo a portare Stubby di nascosto. Mentre era in prima linea, il ruolo di Stubby si evolse da mascotte per il morale a compagno d'armi. Nel febbraio del 1918 l'afanteria fu sottoposta al fuoco dei tedeschi e Stubby fu esposto a gas tossici, dovendo essere portato all'ospedale da campo. Questo incidente rese il suo naso sensibile alla presenza di gas tossici e, al mattino presto, quando i tedeschi lanciarono un attacco con il gas, Stubby sentì l'odore del gas nell'aria e avvertì i suoi compagni. Stubby partecipò a 17 battaglie che gli valsero diverse medaglie al servizio militare e ricevette una promozione al grado di sergente. Se ti piace il video, iscriviti!